Ci ritrovati? Prima live di Isaac, siamo alla prima victory lap, ok, quindi abbiamo così un bel po' di monete, chissà se posso comunque... Wow, il soul converter, sì, lo prendo per poter diventare gappi, però lo lascio giù, perché non mi servirà. Il nail è molto più forte. Vediamo cosa abbiamo qua, e qua. Ok, quindi, non voglio utilizzare le... oh, ho sbagliato. Allora, Taurus o l'occhio? Adesso, onde, evitare di fare cazzate a Tom, va a prendere il telefono? E guardo. E vediamo subito. Allora, l'occhio, secondo me, è quello che mi fa fare le cose di monstro. Non lo trovo neanche. Il Taurus, invece, mi dà speed down, però Rage is building e mi fa diventare invincibile. Io, così, a colpo d'occhio, prenderei il... Mom's contact, freeze effect. No, io prendo il... No, non è mom's contact. Non è il contatto di mamma, quello. Vediamo se lo trovo all'occhiolino. Per me è l'occhio di monstro. Comunque, preferisco avere speed down, Rage is building, che... Tanto è alta, perché siamo il Leviatano. Quindi, davvero, va benissimo così. Va benissimo così, proseguiamo, ragazzi. Proseguiamo, che non c'è tempo assolutamente da perdere. Ok, ok, ok. Entriamo assolutamente allo shop, perché siamo pieni di roba. Ok, purtroppo non posso donare monete, ma pensavo, ma... La sacca del sangue, HPA, va bene. Questa mi serve, va bene. Curse of Tower, no, grazie, però. Quindi la lascio giù, volentieri. Qua... C'è una stanza segreta. Ok. E a lui potrei donare? No. Assolutamente. Bomba? Aumentiamoci la possibilità del patto. Esatto. Non si è aumentata, chiaramente, perché siamo al primo piano. Stupido anch'io, però. Senza. Di là c'è il mini boss, mi potrebbe dare virus touch. Quindi facciamolo. Tieniamo in giù. Giù. Wow. Non mi ha dato virus touch, mi ha dato... pillola, che non proverò. Non voglio fare cazzate con le pillole, ragazzi. Quindi... Abbiamo 21 di danno. Va davvero. Oddio. Ok. Ok, stanza segreta abbiamo già fatta. Andiamo dal boss. Ok, Widow. Fatto. Doll. Tommy's Head è interessante. Ma preferisco tenere il nail. Perché... Perché mi si ricarica, lo svelta, eccetera, eccetera. Via, andiamo avanti. Senza perdere altro tempo. Ok, qua abbiamo una stanza segreta. Ok, non c'è niente. Carta. Two of diamonds. Ok, potevo usarla dopo. Sì, avete ragione. Tinted, la spreco. Volentieri, the full. Non lo tengo. Non ho trovato niente. Lo tengo, sì. Perché potrei fare... Potrei benissimo arrivare in fondo. Alla victory lap, alla boss rush, senza particolare difficoltà a rubare l'oggetto. Ah. Ah sì, abbiamo fatto una bellissima combo con... Qua volentieri. Magari c'è un'altra smorra. No, ma due bombe. Una bomba per due bombe, ci sta. Quanta roba. Il coupon. Io ho il 100% di probabilità di trovare qualcosa, quindi volentieri. Facciamo come prima? Bomba qua, anzi. Spirit of the night? No, grazie. Bomba. Volentieri. E jimpy, volentieri. Ehm... Sì. Anche questa è interessante. E... Potrei prendere anche... Vediamo qua. Wow. Ne abbiamo due così adesso. Prendo anche lui. Range up no? Bomba? Oh sì, ragazzi. Ok. Teniamo tutto fermo. Andiamo dal boss. Anzi, prima scendiamo qua. Ah, la death list. Pensavo... Ero convinto. Ok. Io posso prenderne uno, immagino? Beh, sicuramente prendo le batterie. Le posso prendere tutte? Vabbè, allora questo mi raddoppia il mio, giusto? Ma non mi conviene. Prendo il coupon, andiamo dal boss, apriamo la stanza, torniamo indietro. Il mega bomba non mi fa niente. Questa è stata davvero una bellissima stanza. Bomba qua? Guardate cosa fanno le bombe. Stupendo. Ok, non c'è niente, poco male. Andiamo, andiamo, andiamo. Corriamo, corriamo, corriamo. Abbiamo già perso troppo tempo, siamo solo. Al secondo piano ho perso 5 minuti della mia... Corsa, perché è una corsa questa. Deve essere una victory e una lap. Quindi, monstro. Mi spiace. Ok. E entriamo. Però, rinuncio al boss. Anzi, coupon. Yes. Speed più shot, speed up. Sono diventato spawn. Non prendo nient'altro. Mi andava bene anche le bombe, ma va bene tutto, davvero. Qua sarebbe stato utile un 48 hour energy, ma chi se ne frega. investe. Invest. The world, wipe warm. Wow. Non so se... Per il warm, ma va bene. Ok, andiamo. Torniamo giù. Tra l'altro, non so se la mia chance con il diavolo si è aumentata. Ah, ho sbagliato stanza. Un po' di qua devo andare. Scusatemi, mi perlodeva. Eh, no, vedi qua. Ah, ora è nello shop. Esatto. Shop, 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 shop. Quindi range non ci serve. Beh, però potrei mettere una bomba e trovare di gelo, per esempio. Eh? 25 di danno. Si vola, ragazzi, si vola. Andiamo. Ho tenuto the full, sì. Ma guarda, io una bomba, io la piazzo qua, eh. Ok, e anche a lui. E perché no? Nella sacrifice. Ok, non era quello che volevo. Devo andare solo giù di qua. Ragazzi, è stupendo, è stupendo. Facciamolo. Peccato. Sto perdendo troppo tempo, lo so. Giuro che sarò breve e veloce. E c'è viato? No, grazie. Tengo the full perché voglio provare ad andare avanti veloce. Ok. Ancora in più che non posso prendere perché sono già fullato. Guardate quanti cuori mi ha dato. Spingiamo lì. Potrei usare tre bombe ma il mio essere tirchi mi dice... Mi fa puntare a essere veloce in altro. Al fare queste cose con minuzia. Tanto è la seconda, ci manca shop e... Le tre giuro. A dieci siamo a metà. Ok, dovrebbe aprirsi tutto qua. Esatto. Perfetto, perfetto, perfetto. È quello che volevo. Potrebbe essere Joker? No. Pillole, non le voglio. Non mi interessa, non mi interessa. Andiamo avanti. Ops. Vogliato strada di qua. Ok, un position. No, grazie. Faccio una tinta, draco, volentieri. Ok, niente di nuovo. No. È tutto di qua. Sia shop che... Wow. Ma potremmo rovinare la run. Invece no. Va bene. Siamo diventati guppi. Basta. Abbiamo preso tutto il possibile. Ok, ho aumentato di uno i cuori. Ma è va bene. Devo assolutamente trovare delle monetine. Esatto. E ora andiamo dal boss. Veloci. Perché... Siamo... Abbiamo oltrepassato... Merda. Sbagliato. Ok. 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 Via. The Frail. Ok. Wow. Sarà un HP up. No. Scatter Bombs. Perfetto. Abbiamo la build delle bombe. Andiamo. Andato discretamente bene. Questa prima victory lap. Guardate. E apriamola. Sì. Siamo diventati anche guppi tra l'altro. Tengo the full. Ah. Mi sa che ho preso... Non ho preso the full. L'ho lasciato indietro. Eh. Purtroppo nel casino l'ho lasciato indietro. Si vede. Vabbè. Pazienza. Poco male. Potremmo farci anche la boss rush. Perché? Mi dispiace solo che... Ehm. Easy. Two of diamonds. Volentieri. Cheers down. No, 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 no. Non usiamo le pillole. Per confesia. Anche se... È vero. Siamo al limite dell'imbarazzante. Nove. Va bene. Ok, altre bombe. 41 bombe. No. Chariot. E dopo inizia ad esserci così tanta roba che... Purtroppo non ci fa fatica a capire tutto. Io sto laggando, raga. C'è l'unico che mi dà fastidio è quello delle bombe. Quello che mi... Mi ruba le chiavi. Bastardo. Voglio io. Esatto. Andiamo a entrare qua. Ok. Uno. Una, due. Ok. Io sto laggando. E devo stare attento perché qua ci sono altre piccole bombe. Però il brimstone non mi fa male. Quindi... Ok. Vabbè. Sinto il. More bombs. Va bene. Direi che va bene. Proviamo. Raga. Esplodi, però. Esplodiamo. Certo che per 15 bombe, 99 monete... 99... Se trovo 15 monete, lo faccio volentieri. Qua devo usarla. Salve chi può. Devo trovare delle... Monete. Monete, monete, monete. Ci manca anche la treasure. Temporance. Mask of infamy. Perfetto. Andiamo di qua. Mettiamo giù. Temperance qua. Ok. E' una bomba. Sì. Bastardo. Ok, ok, ok. Torniamo in giù. Prendiamo un cuoricino. Premiamo l'altra quarta. Ehm... E' una bomba che ho lasciato giù, non mi ricordo cosa, va bene. Torniamo in giù, torniamo in giù e questa la prendo volentieri. Solo per avere... Per essere cappati di bomba. Di chiavi. Stain. Quattro. Angel room... Ehm... Tinted... No, gra... Cioè il... La angel room volentieri. Questo sarebbe molto utile. Lo prendo e non lo faccio. Invece che faccio? Sei tu. Wow. 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 Ehm... Bat wings. No, preferisco il... Va bene così. Andiamo. Teniamo the chariot. Non prendiamo... Andiamo... Vabbè, siamo già guppi. Quindi... Non c'è problema. Andiamo giù. Giù. Giù, giù. Giù, giù. Cioè raga, entro. Non ho bisogno di far niente praticamente. C'errebbe far niente. C'errebbe far niente. C'errebbe cazzata, ne? C'errebbe davvero tanto. Sì, laggo un pochino, lo so, però. Ormai vi tenete il gioco così con me. Se io entro adesso... Ok. Uscendo naturalmente prenderò danno, ma... Wow. Adjustment. Bastardo, è arrivato ancora prima lui. Va bene. L'unica cosa che ci resta è lo shop. Pierce, no, grazie. Ma lo prendo lo stesso, volentieri. Faccio un Jera. Allora, io non mi ricordo... Cosa faccia l'altro. Devo andare a vedere, quello bianco. Ok, l'ho override, quindi prendo Glitter Bombs. Siamo? Bomba. Mi serve chi può. Va bene. C'era Home in Bombs, lo so. Non l'abbiamo fatto in tempo. Provo di nuovo. A parte che avevamo poche monete, quindi... C'è il mio... Il Waffer. Il Waffer. Assolutamente devo prendere il Waffer. Mi serve una. Esatto. Il Waffer mi sarà d'aiuto davvero molto. Waffer. L'uno più uno. Ragazzi, se prendo l'uno più uno è fatto. Non è fatto. Vabbè che... Direi che non abbiamo problemi, vero, fino ad ora. Servirebbero... Indici monete. Abbiamo l'altra stanza segreta. Tanto ormai la boss rush è andata anche qua. Purtroppo. Quindi, andiamo. Posso fare anche le altre stanze Non c'è problema Minchia ragazzi Guarda è rimasto lui poverino No niente Non è dato niente Ne ho solo 5 Non ho possibilità davvero di Dovrei accontentarmi del buff Però Nient'altro vero Ciò che mi fa laggare è il Taurus Rage is Building Con lo stopwatch tra l'altro è una copiata davvero vincente Che bastarde ho sti piani Va bene Direi che abbiamo tutto Non possiamo davvero lamentarci Già Se posso uccidere Mi aspettavo Decisamente Decisamente Dei Le monete qua Potevo lasciarli Tears up Jera Che stupido Però Che stupido Vabbè Andiamo Dai non stiamo qua a diventare pazzi Sennò davvero Dopo ci lagga il gioco Gish La raga Lui lo prendo Un altro minion in più Andiamo giù Bomba Oh Senza segreta We put bombs in your bombs con Con il nostro coso E' davvero fenomenale Bastardi Sta bene Lagga troppo Ma la fa bene Vai Vieni giù Vieni giù Mamma Ti aspetto Dammi roba Niente Sì Potevo lasciargli Alla in effetti Non ho ancora Ho arrivato lo steam 6 Unica cosa Di cui Davvero Non vado Fiero La fai La fai La fai La fai La fai La fai il dollaro solo credit ok dobbiamo trovare uno store va bene va bene chi se ne crea qua siamo a mamma pensavo di cos'è che ho la infamire d'action vero stupido io pensavo di averlo ucciso anche il mondo buco usciato è bello ma è broken board è broken ah certo devo proviamo a tenere un attimo ah no 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 devo avere quello pieno io già quindi non mi fa davvero niente ok cerchiamo no merdaccia ma fa un culo no grazie vabbè raga non volevo rubarmi delle monete però tre effettivamente erano quelle che cercavo per prendere ma home sweet perfetto e andiamo la mamma pieni della nostra potenza su e prendiamo il negativo perché no rinunciamo al patto andiamo giù un secondo solo un secondo solo un secondo eccomi sono ritornato ok perfetto non era quello che volevo ma rage building ci aiuterà ok morte angel ru entriamo more bombs grazie sacco of penny ok 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 prendiamo questo che è il cubo gira attorno andiamo qua me la sono portata dietro vogliato io eh si qua lo uso ragazzi tanto ormai davvero siamo alla frutta il contract from below serio siamo alla frutta davvero ok si vede che ho lasciato giù un trinket qua forse al piano precedente ma pazienza ormai davvero siamo siamo per la grandissima ok potrei andare una bella bomba qua eh wow e andiamo giù arriveremo alla fine della prima victory poi breve pausa devo mangiare ok 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 mi dà una chance in più di fare l'homeinshot di questo ancora? l'obiettivo era arrivare qua e trovare tre monetine f1 torniamo indietro merda ho sbagliato o male questo possiamo prenderli tutti e tre raga lol allora ok quindi l'unica strada o era quella o bisogna tornare indietro ok era questa bomba ansuz jera teniamo il the full agalas the full no ah mi ha tirato via i trinket mi ha tirato via i trinket no quello qua ok andiamo nel cuore wow 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 andiamo giù satana sono fermati fin troppo sui primi piani dai 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 buono oddio 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 vabbè meno male perché da my jump si ventieri ok ho perso ma va bene se non prega andiamo yes andiamo giù pensavo di essere già invisibile invece no mi sono diventato adesso paziente perché ho perso davvero zero non ho ottenuto il the full e non ce l'ho fatta ragazzi vabbè inserzo peccato che non abbiamo indovinato la strada tutta volevo farcela alla svegli ok satana sei mio satana abbiamo 30 di danno 31 bomba raga avete presente non ha nemmeno spawnato le sue cose andiamo giù perché dobbiamo procedere arriviamo alla chest alla dark e si aprirà esatto ai 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 ok 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 ma noi andremo da the lamb volentieri invece le le cose no grazie il fungo si e anche questo perché no ah sono perché ho l'home in shot eh per il cucchiaio forse bomba inchia peccato che non posso più donarti monete ti avrei donate molto volentieri allora in giugno si può più andare quindi in su sto rischiando di prenderlo facciamo una cazzata abnorme ok 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 tutte e due eternal life e anche little horn per la scienza si prende tutto ok questa era brutta effettivamente mi sta bene ma noi abbiamo tanti cuori indietro dov'è 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 qua ok ok hello flies di nuovo e il del mark dai stupido ok uno e l'altro e qua ok perfetto vediamo cosa ci date voi ok lui si l'altro no a parte che è il freeze contact eh quindi chi se ne frega lo prendiamo lo stesso quello ok apriamo anche l'altra stanza segreta a questo punto dark room wow restock l'abbiamo già quindi HP up no under restock comunque ma se io ora faccio così metto comunque la parte della chiave e prendo entrambe le cose bookworm 33 di danno raga non ci fa più paura davvero nessuno ok torniamo in su e torniamo da the lamb ok su questo io mi fermo un attimo anzi facciamo partire la victory lap interrompo lo streaming ci riaggiorniamo tra 15 minuti almeno vado a mangiare e poi ringrazio Yusil 2021 per il follow con la seconda victory lap vi ringrazio per essere passati alla prossima grazie